musica musica scicchieto la ferrara eh perchè te la scena non tu manda la abbastanza allora sta a questa casa qua a bui vago mettiti la ferrara in mano ma non ci arrivo ma non ci arrivo dici dai secondo me non ci arrivo vuole per me ma non ci potete che sta piano per uè c'è la miseria ma c'è mangiata una pizza è buona però se c'è tutto per basta nel garage dietro il garage dietro e dire davano garage dire che già ci sono un lo so per il mondo è morto due squadre diverse se non ho parolo eh perchè frate non sto andando a casa di lui ora sta gente 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 eh parou eh questo è il bambino tra vieni qua vieni qua non fai dalla sua vieni qua vieni qua qua oh c'è una fatta stai qua oh ma che figlio tra voi wow ho vengendo in terra già in terra che si faceva ma poi veniva un po' di armi andò se non la c'è ma finirei troppo la ora c'è sta pure qualcun'altro perché l'altra volta erano cinque sei l'otto ma i macchine ci stavano ecco 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 oh la rossa è quella che stava là super è un po' diversa ma sta cosa non arrei eh frano ma che ruolo ah li stavano da benzine c'è stavano ma che ruolo un po' cazzo oh oh 54% tra l1 e r1 che verano eh ah li shooti quello questo va bene ah si è botto ah si è botto ah si è botto oh ma questo è scema oh oh ma questo oh ma questo oh mannaccite qua no no vabbè oh ma non mi hanno distrutto mi hanno distrutto mi hanno distrutto mi hanno distrutto no vabbè no vabbè oh ma io l'hanno al war a mezzo questo è vero non mi hanno distrutto non mi lascia ce ne ho dovuto atterrare uno con la granata non ho parole no eh sta restando pure all'amico ma il botto sempre eh si restano pure a vicenda c'è gente pure che non è bot oh no si no 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 è sempre bot ma di un uomo un uomo mi hanno distrutto aspetta prova ad uscire un attimo l'ho già ammalato l'ho guidato l'ho però ma andando proprio sta mano boom ma lei ma non lo faccio è andone, tengo 17 vid 5, 4, 3, 2, qua oh la mamma mia, si scema ecco qua oh, ho sbagliato, ho sbagliato, mi ha già sparato un po' di fuoco faccio, questa è quella che era la pistola normale ma chi è che sta sparando? ti è andato a la finestra finiti, io quello che uno c'era 104 veramente c'era infatti si sceso cristo ma però c'è, li hanno baffati perché sono più forti tieni scudo chiamare un calabino, io sono morto che dì? guarda fuoco tutto così, mo, mo, gotti ammò, di giù tu guarda gotti qua tu non magia oh gente com'è possibile che me c'è non mi stava mirando da malin stasi che sta succedendo non so cap'è ha giocisi che cosa puzzola è perché io l'ero cogliuto un capo con l'uomo c'ho vabbè non ho capito la macchina che sta caendo io o è passato qua fuori a casa mia c'è un po' non ho capito non è andato oh ma dove l'ho blocchi bello sento bello è bello bello devo dire non credo di cosa l'ho visto l'ho io fammi le sapere